Questo è un pezzo unico rimasto, quindi chi lo vuole, visto che ho avuto una richiesta di una signora che non vedeva, quindi mi ha chiesto poi di farglielo rivedere, ne ho uno solamente. E ritiro. Colore zaffero, splendido, guardate, Eternet a tutto giro, colore zaffero, un amore di Eternet. E ritiro. Le signore che l'hanno ordinate rimarranno soddisfattissime di questa parola. Poi potete farvi l'ultimo completo. Parliamo del BR cancellato, che mi ha visto all'ospedale San Paolo e mi ha scritto su Instagram se andava tutto bene. Tutto bene, abbiamo risolto tutto con la bimba. Grazie al ragazzo, all'uomo, non lo so, involontariamente volevo rispondergli tutto ok, ma ho cancellato il messaggio. Grazie, torniamo giù. E te lo ricordi mica? C'è scritto nell'altra forse. Guarda un po', Giulia, nell'altra, entra dentro, no, no, nell'altra. No, ce l'ho, ce l'ho. E B01, e B01 per la signora, è splendida. Ora, ad esempio, guardate oggi come sono vestita io. Sono proprio sportiva, ma guardate. La porta così. 99 euro. E la porta così. come zainetto. Sono pezzi unici, modello Hermès. 99, ora le faccio vedere quella da 75. Inquadra la borsa, Andre, grazie. Vitello, vitello martellato, 75 euro. Splendido. Splendida sacca. Si può portare a tracolla, può portare a mano. Sono due meravigliose borse. Sono due splendide borse. Torniamo su questo che è unico, così ho fatto vedere alla signora. Sì, quella lì. Volendo, vi faccio vedere una cosa. Questa borsa diventa un triangolo. Guardate. Bellissima. Un amore di borsetta. A 45 euro è regalata. Mi sa che è andata. Poi, DRC0923, regalato a 29 euro. Eccolo qui. 29 euro bracciale più anello. Splendido. Splendido per voi. Andiamo ora a vedere insieme. A tutti questi dischetti, tutti i placati, bull placate, tutte le cornole. Splendidi. Unica possibilità. Allora, la parura gatto, eccola qua. Mio disegno, un gatto tornato da zirconi, maschile e femminile. Un cogliè strepitoso. Scendi, scendi. Ultime due possibilità. Grazie alle amiche. Grazie alle amiche. Modello FOPE. Ridisegniamo i gioielli delle collezioni in oro 18 carati. Questo è un classico nell'ambito della gioielleria. Ritiro, grazie. Ultimi due pezzi. Grazie, 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 grazie. Poi. Allora. Allora, ultimo completo disponibile. Bracciale più... Bracciale più... Allora. Allora, una signora chiedeva di rivedere, eccolo qui. Fascione in tormaline. Taglio Marchese, bellissimo. Tutte tormaline naturali. ANS 51. Misur. E poi il resto proprio... Come si fa, così. Poi, un altro modello Chantecler unico, con onice bianca e onice nera. E' questo paio di orecchini che sono un pezzo unico. Perno e farfalla. Eccoli qua. 39 euro. Pendenti per 3 centimetri. Pendenti per 3 centimetri. Onice bianca e onice nera. Per un orecchino, per un lobo, totalmente total gold e traforati per l'altro. Molto particolari. Stringi, stringi, stringi. Non si vede. Aspettate. Un po' è. Okay. Allora. Allora.